salve a tutti in questo video vi faccio vedere come il mio figlio prepara le patate da mettere al forno io sono più sbrigativa taglio le patate e le metto nel forno invece lui taglia le sue patate a cubetti queste sono le mani del mio cuoco del mio cucchino e una volta che le ha tagliate prepara una pentola con dell'acqua la fa scaldare e butta dentro queste patate per 5 10 minuti non di più le fa quindi diciamo un po sbollentare una volta che ha sbollentato le queste patate prepara in una padella dell'olio aglio rosmarino eccola la sua faccetta e sale e pepe e ci scuola dentro queste patate sbollentate e poi le mette al forno da far cuocere fino a che sono dorate ecco qui le patate vengono così più dorate e più croccanti fuori e morbide dentro sembra una pubblicità